buongiorno e buona domenica dell'ascensione domenica 16 maggio 2021 benvenuti al nostro almanacco 136 giorno dell'anno 19 settimana e alla fine del 2021 mancano 229 giorni a roma sole sorge alle 4 e 49 tramonta le 19 e 24 ora solare a milano sole sorge alle 4 e 50 tramonta le 19 e 48 la luna si leva alle 7 e 58 e tramonta alle 23 e 50 i santi del giorno sant'ubaldo di gubbio san simone stocca santa margherita di cortona san brendano di clonferta ubaldo è un nome d'origine germanica e composto da ugi senno e bald ardito nel significato di intelletto vivace e coraggioso attestato già nell'ottavo secolo nel personale ugi bald introdotto in italia durante le incursioni germani che venne latinizzato nelle forme ubaldus ubaldulus ubaldinus proverbio del giorno maggio soleggiato frutta a buon mercato aforisma del giorno tanto le più elevate quanto le più infime forme di critica sono una sorta di autobiografia oscar wilde accade oggi 1792 a venezia viene inaugurata la fenice un nome un destino espressione della cultura illuministica e in questo osteggiato fin dalla sua progettazione il massimo teatro veneziano risorse più volte dalle proprie ceneri sei nato oggi sei molto ambizioso e sorretto da un'intensa forza di volontà hai ottime possibilità di raggiungere successo ma a volte disperdi le tue energie in imprese al di sopra delle tue capacità cerca di essere più riflessivo e più arrendevole faticherai meno e otterrai di più in amore devi sforzarti di lasciare più spazio al tuo partner e ai suoi punti di vista compleanni famosi 1951 claudio baglioni è il claudio nazionale della musica leggera italiana in cui come cantautore ha fatto scuola con oltre 40 anni di successi che continuano a far cantare il pubblico di tutte le età suo l'album la vita adesso con 3 milioni 800 mila coppie più venduto nella storia della discografia italiana 1974 laura pausini artista osannata e pluripremiata in patria all'estero con oltre 70 milioni di dischi tra cd dvd e singoli venduti nel mondo è la regina del pop italiano emiliana di faenza se avete anche voi altre notizie curiosità potete segnalarcele a info e pavia 1 tv punto it o via whatsapp al 389 25 66 296 grazie per essere stati con noi e al prossimo al manacco e ancora buona domenica grazie per essere stati con noi